Se tocco questo argomento è un argomento che mi fa incazzare come una bestia, guarda come una iena. Gli spazzini a fuori grotto è come se fuori grotto non fosse mai esistito, o meglio, no? Quindi spazzini a fuori grotto, ma neanche l'ombra, basta farsi un giro, le posso dare alcune strade dove praticamente la mondenza si accumula praticamente da mesi, no? Se non parliamo di anni forse, ma probabilmente qui gli spazzini è merce rara. Uno spazzino a fuori grotto l'ha mai visto? No, assolutamente no, anzi chiediamo gli spazzini a fuori grotto. No, 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 non spazio nessuno, solo il vento porta via i rifiuti, esatto. Veramente è un po' di tempo che non si vedono in giro, quindi ne avremo bisogno, diciamo. In realtà non l'ho mai visto da quando studio qui a Piazzale Decchio, devo dire la verità, non mai incrociati, neanche per un minuto. Massimo visto, vabbè, quando tagliavano i rami e poi li hanno, dopo un'intera giornata, diciamo, in mezzo alla strada sono stati alzati, però no, devo dire la verità, no. La spazzina in quanto tale, penso, non ne ho mai visti. C'è stato il periodo l'anno scorso, in primavera, che è stato pulito e tutte le ruole centrali di Via Lagusto e lì c'è stato un po' di movimento, però da allora, diciamo, l'ordinaria amministrazione mi sembra che non ci sia stata. Almeno un paio d'anni, fuori grotta, sono almeno due anni che non vedo uno spazio.